Dopo il clamore social della festa in discoteca in un noto locale della Movida sulla Litorania di Salerno, con il video postato su Instagram da Selvaggia Lucarelli, l'influencer giornalista, ed il commento giunto ieri anche del presidente della regione campagna Vincenzo De Luca, arriva la sanzione per il locale che non ha rispettato le norme anti-covid. Sono stati militari della compagnia dei carabinieri di Battipaglia proprio grazie all'attenta visione dei filmati postati sui social network che dopo aver concluso tutti i necessari accertamenti hanno deciso di elevare nei confronti del proprietario del locale situato sul litorale salernitano una contravvenzione per inosservanza della normativa anti-covid. Lo scorso fine settimana infatti nella discoteca è stata organizzata una serata con un noto dj con la possibilità di servire bevande ai tavoli con accesso su prenotazione obbligatoria, l'obbligo anche di usare mascherine e dispositivi di sicurezza garantendo il distanziamento sociale. I video però hanno dimostrato che così non è stato e la serata si è trasformata in un'orgia danzante come dimostrato proprio dalle immagini. Dell'attività di polizia giudiziaria condotta dai carabinieri è stata informata la prefettura di Salerno che potrebbe arrivare a emettere ulteriori sanzioni anche alla chiusura dello stesso locale. Come ricordavamo era stata la giornalista influencer Selvaggia Lucarelli a postare le immagini della discoteca di Salerno richiamate ieri anche dal governatore De Luca, la prima per evidenziare la sofferenza di chi rispetta le regole, i gestori per esempio delle discoteche vere e proprie mentre sui lidi si trasformano in serate danzanti e ogni occasione ed eventi, mentre De Luca aveva utilizzato l'evento per lanciare l'ulteriore allarme su una possibile ripresa dei contagi legati alla variante Delta.